Quelli che difendono tanto le donne, in questo caso, di fronte a una conversazione tra due donne, dove una accusa l'altra di essere stata con voi solo per utilizzare un brand, voi state a sentire l'accusa e tu ci volevi andare e l'altro voleva uscire con lei. Ma complimenti, ma complimenti, devo dire complimenti, con te e con Alessandro. Ma come? Gli chiedi scusa perché non sei uscito con lei? Senti Tina che l'accusa di essere venuto con te. Per uno scopo economico stai dritto. Tu e l'altro. No, stava parlando di Alessandro. No, ha parlato anche di te, Tina. E non c'è nulla di male se Tina lo pensa e se Ida si difende. Ma che voi due state zitti è terribile. Terribile. Ma per me stava parlando qua Alessandro. Alzi la mano per intervenire su Maria Grazia. Maria, io fino a ora... Però sì, su Maria Grazia dobbiamo specificare. Maria... Su di lei no. Maria, sono cinque mesi che io, Ida... Ma Diego, dai, Gesù. Allora, Maria, io mi sono sentito chiamato. Tu mi hai sentito finta quando sono uscita con te. Ma non glielo domandare. Ma non glielo domandare. Ma ho mai detto questo? Io sono cinque mesi. Diego, c'è una donna che fa l'opinista che glielo dice. Ma stava parlando di Alessandro. Tina è libera di dire ciò che vuole. In questo studio...